L'ultimo saluto al maresciallo Venneri lo hanno portato ieri amici e colleghi, istituzioni e tantissimi cittadini di San Giorgio Ionico in provincia di Taranto. Nella parrocchia Maria Santissima Immacolata c'erano le persone di una vita dedicata alla divisa, al calcio, alla famiglia. C'erano tutti i colleghi della Polizia Municipale di Taranto. Le ha reso omaggio anche il prefetto di Taranto Claudio San Martino, il questore Enzo Mangini e il sindaco Stefano. Le lacrime dei parenti, dei figli, della mamma e della sorella di Venneri per un lungo addio. Don Domenico Morciano, che ha celebrato la messa insieme a Mino Quaranta, ha ricordato la generosità e l'altruismo di Venneri, sempre disponibile e chiamava il calcio. Manuelino adesso è volato in cielo in divisa, ha detto Don Domenico, con la consapevolezza della resurrezione. Durante la celebrazione del funerale è intervenuto anche il comandante della Polizia Municipale di Taranto, Michele Matichecchia, che ha ricordato il senso del dovere di Venneri, sempre disponibile nei confronti dei cittadini e dei colleghi. Il ferretro è stato portato in spalla, seguito dalla folla in un silenzio composto. Per Venneri i colleghi hanno fatto il picchetto d'onore. Il maresciallo è morto mentre era in servizio nella notte tra lunedì e martedì in un incidente stradale a Taranto. L'auto su cui c'erano altri due colleghi rimasti feriti è stata tamponata da un'opelcorsa guidata da un diciannovenne in Biancona, nel quartiere Salinella. Il maresciallo era seduto sui sedili posteriori e il terribile impatto è stato fatale, non gli ha lasciato scampo. Venneri era impegnato nel seguire i mezzi dell'Amiu per lo spazzamento notturno, poi il terribile schianto che se l'è portato via. Grazie.